Quali sono le impressioni della gente dopo la situazione di commissariamento in cui il comune si trova e dopo una stagione estiva non felicissima? Sicuramente i commissari non fanno quello che potrebbe fare un politico e quindi è una situazione negativa, ancora di più perché avremmo un commissario per più di un anno, da marzo abbiamo il commissario quindi si voterà aprile giugno, ci sarà per 14-15 mesi e sicuramente il paese non migliorerà. Già la situazione non era rosea perché diciamo che quasi tutto ciò che era stato fatto dalle amministrazioni precedenti è andato perso, i mulini ad acqua ormai erano già due anni che non venivano aperti, le aree da picnic sono distrutte, il paese pieno di erbacce, diciamo che la situazione non era assolutamente positiva. Con un anno e più di commissariamento penso che le cose andranno indietro piuttosto che avanti. La gente ovviamente è delusa, è amareggiata, è anche arrabbiata sotto certi aspetti perché viene da una situazione poco felice, due amministrazioni in sei anni che cadono non è una cosa positiva per un paese, è un paese che comunque stava cominciando a vivere e stava cominciando a farsi conoscere e ad attirare turisti non solo dagli Stati Uniti e dal Canada che sono rosetani che vengono annualmente per l'affetto che nutrono verso il proprio paese ma veniva gente anche da fuori. Siamo entrati nei borghi più belli d'Italia, già questo riconoscimento, essere sulla guida, chiunque può leggere ed è venuta gente che chiedeva che cosa poteva visitare e ci siamo trovati in grosse difficoltà perché ci sono capitata proprio io con un gruppo di turisti che mi chiedevano dove erano i mulini e come potevano fare a visitarli. Io me ne sono uscita, insomma, non c'è proprio la verità. Adesso in prospettiva elettorale quale potrebbe essere lo scenario per il prossimo anno perché poi si andrà alle comunali tra un anno circa? Quale potrebbe essere lo scenario e quale è l'idea, quale potrebbe essere l'idea di Lucilla Parisi? Lei è pronta a una candidatura sicuramente. Io diciamo che al 90% mi ricandido, mi ricandido perché vorrei cercare, se ci riesco non lo so, di recuperare ciò che avevamo fatto innanzitutto e proseguire il programma che avevamo perché avevamo un programma a breve, medio e lungo termine. Quindi si ricomincerà e si riprenderà la strada che era stata già tracciata. Ovviamente il primo obiettivo che avremo in mente, se le cose andranno bene, è collegarci e comunicare con il territorio perché è una delle prime cose che va fatta. Il programma non va fatto un programma sul singolo comune ma va fatto un programma a livello territoriale, quindi si vedrà anche con gli altri sindaci, con le altre amministrazioni e il programma diciamo che già ce l'ho in mente, lo condividerò ovviamente con chi sarà con me come candidato consigliere e valuteremo, miglioreremo magari anche con l'apporto di idee nuove da parte dei nuovi candidati consiglieri.